Al termine delle procedure di estradizione avviate dalla Spagna, è giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino il rosarnese Di Marte Giuseppe, classe 88, arrestato lo scorso 6 marzo a Madrid, dopo otto mesi di latitanza trascorsi tra l'Italia e il paese iberico. L'arresto di Di Marte è avvenuto contestualmente a quello di Grasso Rosario, classe 82, esponente di spicco della cosca di Indrangheta de Cacciola Grasso di Rosarno, è giunto a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, i cui esiti sono stati riversati dalla Polizia Nazionale Spagnola, che ha localizzato e arrestato in Spagna i due ricercati. La gattura dei suddetti è giunta all'esito di una pressante attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica Regina, diretta da Giovanni Bombardieri, avviata all'indomani dell'operazione di polizia Ares, che il 9 luglio 2018 ha permesso di disarticolare due tra le più temibili articolazioni dell'Andrangheta attive nella piana di Gioia Tauro. L'indagine Ares, condotta dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro tra il 2017 e il 2018 sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci, ha infatti permesso di individuare per la prima volta due aggregazioni dell'Andrangheta, quella dei Cacciola Grasso e quella dei Soli Cacciola, contrapposte tra loro e radicate nella piana di Gioia Tauro, riconducibili alla società di Rosarno del mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria. In particolare, le indagini hanno attribuito a Grasso Rosario un ruolo di assoluto vertice della cosca Cacciola Grasso, comprovando altresì il suo particolare attivismo nell'importazione di sostanze stupefacenti in Europa, grazie ai contatti diretti che poteva vantare con gli esponenti dei cartelli colombiani e venezueluani. La stessa indagine Ares ha inoltre permesso di accertare il ruolo rivestito da Di Marte quale narcotrafficante di fiducia del Grasso e ha a completa disposizione delle esigenze della cosca in qualità di promotore, organizzatore e cofinanziatore dell'organizzazione diretta dal Grasso e finalizzata l'importazione di impressionanti partite di cocaina dalla Colombia. Le indagini si sono avvalse inoltre per i profili di collaborazione internazionale dell'apporto fornito dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SHIP.